Un americano dell'Arizona, John Perles, è al comando dell'Open de Golf che si disputa sul percorso del lugolino di Firenze con la partecipazione di 100 professionisti di 12 nazioni. In classifica provvisoria, dopo le prime 36 buche, lo statunitense è seguito da uno stuolo di italiani, Lovato e secondo, mentre in terza posizione si trovano il neocampione italiano Calì e il fiorentino Renato Campagnoli. Baldovino Dassù, intramontabile, classicissimo rappresentante del golf toscano-oldiano, è ottavo a pari merito con guerrisoli e corte. Soltanto una quarantina di giocatori si sono qualificati per le 36 buche conclusive di domani e sabato. Il taglio di metà gara è avvenuto a quota 146. Il fiorentino Alessandro Pissilli, 72 colpi ieri e 72 oggi, ce l'ha fatta a qualificarsi con 144. Sono stati invece eliminati Mauro Ravinetto del golf di Montecatini, che ha totalizzato 152 colpi, Franco Rosi di Firenze con 156 e Gioe Messana di Tirrenia con 159.